Non molto di più di quello che hanno detto i colleghi per esprimere ancora una volta la nostra contrarietà a quanto è stato approvato sia al Senato che alla Camera in queste settimane. L'abbiamo detto in più di un'occasione, l'abbiamo detto durante il lungo e tumultuoso dibattito parlamentare, l'abbiamo detto anche noi in Senato in più di un'occasione. Questa legge che è stata approvata è una legge anticostituzionale, si è scimmiottato il matrimonio, l'unica differenza tra il matrimonio di coppie eterosessuali e il finto matrimonio delle coppie omosessuali è il non obbligo di fedeltà. E io mi chiedo come possa, quando i colleghi della sinistra parlano di amore, parlano di affetto, parlano di dovete pensare alle coppie, come si fa a non pensare a una coppia che si ama e quindi il non obbligo di fedeltà. E quindi il fatto di scimmiottare questo matrimonio e di evitare di parlare di matrimonio per non andare contro all'articolo 29 della Costituzione è stato veramente, è stato solamente un piccolo inganno che è servito per poter far passare la legge nel migliore dei modi. La speranza è che questa legge venga dichiarata incostituzionale per il semplice motivo che non si può, purtroppo per il signor Renzi, visto che calpesta quotidianamente la Costituzione della Repubblica Italiana, non si può andare contro la Costituzione e di conseguenza la speranza è che venga dichiarata incostituzionale. La speranza è che vengano tutelati i bambini, perché a noi interessa soprattutto quello, vengano tutelati i bambini che hanno diritto di crescere con una mamma e con un papà. Durante questo dibattito a noi hanno detto che eravamo dei trogloditi, che eravamo dei sessisti, che eravamo degli ottocenteschi, che eravamo dei leccapiedi della Chiesa. Il problema è, se non altre cose, il problema qui non è di essere trogloditi, il problema è quello di rispettare le leggi, che è una cosa ben diversa. Io termino dicendo una cosa, io voterò questa legge, visto considerato che in futuro potrò votare questa legge, quando il signor Renzi, visto che fa i miracoli, mi farà vedere che da due uomini, da due donne, si riesce ad avere un bambino. Se mi farà vedere questo miracolo della natura, il signor Renzi, a quel punto io lo voterò. Visto e considerato che la natura ci dice una cosa ben diversa, che i bambini nascono da un uomo e da una donna, mi spiace per il signor Renzi, i bambini nascono da un uomo e da una donna e hanno diritto ad avere una mamma e un papà. Grazie.